Oggi tratteremo una paziente di 84 anni affetta da una gonartrosi sinistra di secondo grado che aveva già tratto beneficio dal trattamento con cellule mesenchimali. Il trattamento verrà effettuato in anestesia locale presso la casa di cura Lebetulle e consisterà nell'aspirare una piccola quantità di grasso dalla parete addominale e di trattare lo stesso col sistema Lipostem per ottenere un prodotto purificato che verrà iniettato nel ginocchio sinistro. La signora ha chiesto di poter essere sottoposta al secondo trattamento come indicato anche in letteratura in quanto dopo la prima seduta aveva ottenuto un grandissimo beneficio sul dolore e sulla funzionalità del ginocchio. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!